Ciao a tutti, benvenuti su Gossip e Newsita. Oggi vogliamo condividere con voi gli attimi di tensione che si sono verificati durante l'ultima puntata della Volta Buona su Rai 1, condotta dalla nostra amata Caterina Balivo. La conduttrice ha iniziato la puntata dedicando un'introduzione al triste caso di Giulia Cecchettin, ma la vera sorpresa è arrivata quando ha invitato in studio la famiglia del grande cantante Claudio Villa, scomparso diversi anni fa. Durante l'intervista, Caterina Balivo ha fatto una rivelazione che ha lasciato di stucco gli ospiti e ha creato un momento di gelo tra il pubblico. Rivolgendosi alla moglie del cantante, la Balivo ha affermato che Claudio aveva già tre figli prima di conoscerla. Tuttavia, la risposta della signora è stata sorprendente, poche ha chiarito che Claudio aveva Mauro e poi erano arrivate le loro figlie. La situazione si è complicata quando la conduttrice ha insistito sul fatto che Claudio Villa aveva già due figli prima di incontrare l'ultima moglie, portando ad attimi di tensione e un gelo che si è abbattuto sullo studio. Nonostante la spiegazione della consorte dell'artista, Caterina Balivo ha faticato a comprendere la situazione. Tuttavia, nel tentativo di sgonfiare la polemica, ha dichiarato, io non voglio fare polemica perché davvero non era mia intenzione. Conosco Manuela, il fratello, ho conosciuto Patrizia con la quale ho parlato amabilmente. E allora, com'è possibile che la vedova di Claudio Villa non fosse al corrente della situazione? Era semplicemente un'altra famiglia. Insomma, un momento davvero intenso durante la trasmissione. Cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Gossip e Newsita, lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, e commentare cosa ne pensate di questi colpi di scena. Vi ringraziamo per essere stati con noi oggi, ci vediamo al prossimo video.